segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te mi fa dire un'altra cosa che qua va detta perché il pubblico di otto e mezzo conosce lì stranamente per dei motivi non si sono ben capiti è saltato un direttore di quel gruppo giannini io la governerei con maggiore parsimonia stati zitta ma che cosa stai suggerendo che non deve intervenire può venire qua nella tua trasmissione rilasciare un'intervista molto dura fare un forum con repubblica o con libero o con chi gli para lei ma non intervenire tantomeno poi in parlamento su questioni che hanno a che fare con la stampa nei padroni nei giornalisti che erano nei padroni e nei giornalisti questo non si fa non si fa nessuno accetta e nei paesi civili se lo fanno un altro giornale gli altri non è che ridacchiano solidarizzano ed è quello che stiamo facendo qui brunella bolloli non ti vedevo non ti vedevo da